Il nuovo incarico all'interno del settore giovanile della Sarebese? Innanzitutto vorrei ringraziare la proprietà e in particolar modo Marco Delgratta per la fiducia accordatemi e chiaramente oltre all'amicizia e all'apporto lavorativo che ci lega ho accettato con entusiasmo questo incarico sicuro di poter dare la mano a Fabio che ritengo un grandissimo amico. Ecco è importante il vivaglio della Sarebese perché comunque i giocatori se si riesce a formarli nel proprio interno al di là dei risparmi è anche una soddisfazione non da poco a livello personale. Certamente, oltretutto stiamo portando più ragazzi possibili alla Novenica allo stadio a tifare per la Sarebese e il numero vediamo che aumenta di Novenica in Novenica, la passione sta crescendo, sono tutti entusiasti e speriamo di continuare così. Avete qualche iniziativa o qualche idea per il proseguimento della stagione a livello di vivaglio? Ma cercheremo insieme anche all'amico Mattia Rossi di organizzare qualche cosa a breve tempo e cercando di coinvolgere più ragazzi possibili e creare delle iniziative che possano far bene al calcio Sarebese. Grazie.